Il confronto è stato lungo e a tratti aspro, come quando Julio Velasco aveva dichiarato che nessuno della federazione lo aveva contattato come possibile successore di Davide Mazzanti. In realtà il nome scritto a caratteri cubitali sull'agenda del presidente Manfredi era proprio il suo. Il guru del nostro volley, l'uomo della generazione dei fenomeni, che resta il periodo più fulgido della storia azzurra, è il designato per gonfiare le vele oggi un po' rattoppate della barca tricolore femminile e condurla verso nuovi porti. La qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, prima di tutto, e poi la scalata al podio. 71 anni, originario della Plata in Argentina, ma ormai italiano da decenni, Velasco non è alla prima esperienza con la nazionale femminile, che guidò al quinto posto degli europei 1997. Già dall'esperienza con gli uomini però era sempre stato uomo federale, grazie anche alla sua intuizione sul club Italia, che ha permesso di creare una base di giovani talenti da portare in azzurro. Il contratto di Velasco partirà dal primo gennaio. Fino ad allora il tecnico continuerà a seguire la Uiba Busto Arsizio, che ha plasmato con un gruppo di giovani con l'obiettivo di raggiungere la salvezza nella Serie A femminile. Domani, in Consiglio di Lega, la società Bustoca chiederà il superamento del divieto del doppio incarico per poter tenere Velasco fino a fine stagione, ma la federazione non è intenzionata a cambiare la sua posizione al riguardo. Ogni dettaglio sull'accordo è soprattutto sulla sua durata. Per capire se Velasco guiderà la squadra anche nel prossimo quadriennio olimpico sarà diffuso in una conferenza stampa il 21 novembre.